Allora io approfitto di questo momento per salutare la mia ex suocera perché ci sta salutando un po' a tutti in queste ore, se ne andrà e non potendo essere lì con lei per darle l'ultimo saluto lo faccio da qua, ciao Laura, ciao Laura, ciao Laura, sei che ti saluta? Sto cazzo!